Musica Un bel saluto a Dutskint e benvenuti a una nuova puntata della Fassan-Curt, la neve di questa settimana. Il Comune Generale di Fassa è stata la prima conferenza di Enzo Zier, preveduta dall'articolo Cater della Convenzione tra il Comune Generale e i Comuni Fassani. Ora che si è reso in conto di regolamentazione della regoletta di Fonghes. Sono scuter Ruggero Chiocchetti, responsabile dell'Offizio e Servizio dei Affari Generali del Comune Generale di Fassa. Il Comune Generale si è riuscita più che altro per insegnare la documentazione pubblicitaria da dare fuori dagli uffici dell'APT e dagli uffici della posta e di abbinare le tariffe che abbiamo pagato. La legge provinciale ha permesso che tutti chi che va a abbinare Fonghes, che noi siamo i residenti della provincia, compagliare una tariffa che la può ruire da un minimo di 10 euro per una giornata fino al massimo di 60 per tutto il mese. Chi che invece ha la residenza di un dei comuni della provincia non li ha a pagare perché appunto la legge provinciale ha permesso che la regoletta di Fonghes sia gratuita per i residenti. Più manco sul territorio di nostra Val vengono a subito ogni anno dai 20 ai 30.000 euro che le appuntino che vengono fuori dalle tariffe che vengono a pagare da chi che va a abbinare Fonghes. Il Comune General di Fassa ha festato a saer che il Consiglio di Ombols della radunanza dai 1-2-1 ha mudato fuori le tariffe della mensa per l'anno di scuola 2014-2015, per i scuole delle scuole popolari di Moina e Cianacei e per i studenti degli licei di Pozza da che su ton la tariffa più bassa la sarà di 2,20 euro e che la più alta di 4,40 euro. Non muda il valore ICEF e i percenti di rebass per i fies. In domenica ai 13 di Messel a Moina sarà l'inaudazione della mostra 1914-1912 La Gran Vera La Grande Guerra Galizia-Dolomiti La mostra per il centenè metù da nesser dal Comune di Moina dall'Istituto Cultural Ladin e dall'Associazione sul Fronte dei Ricordi col ditamento della Provincia Autonoma di Trent del Comune General e della Piti di Fassa la resterà avverta fin da settembre del 2000-Chines. Nella zona del programma d'Indomenia e dell'Urier metuasir per indrezzare la mostra Fabio Chiocchetti, direttore dell'Istituto Cultural Ladin. Il programma dell'inaugurazione della mostra del Sud Tirol e anche con un gruppo di rievocazione storica Duce Adum Serua Vin Ramon ho la che vengono a scorrere il Memorial 14-1912 del Sud Tirol che è una opera d'art fatta da un artista che ha il nome Federica Cavallin e che la vengono a rappresentare l'impatto dell'uomo rispetto a questo gran evento che ne ha già tanti da vecini. Allora sarà la salute delle autorità, sarà la presentazione da parte del curatore della mostra Michele Federspil e la presentazione dell'opera da parte dell'artista. Se partendo da neve da giunnavalge e per ruvar giunnavalge ho la che vengono a rì la mostra che sarà aperta dalle doves fin dalle sei da sera do e do con entrata di band. Dunque Duce potrà girare a vedere questa gran esposizione che l'ha articolata su un cater gran sezione e ho la che vengono a dire attraverso la ricostruzione storica delle trincee, dei camminamenti, dei baraccamenti che erano per questo mondo e tutta la documentazione al do della Galizia che è stato il fronte orientale e che tanto che la popolazione locale ha paddato questa gran disgrazia che è stata la vera. Allora alla fine vengono un tenuto a Marena e un momento di riflessione con esponenti della cultura e della politica che ha l'intendimento di questa mostra che è la doventa e domani una sezione stabile del museo o la vinde farsa o la che il materiale che è stato abbinato da tutti gli segni dall'Associazione sul fronte dei ricordi dall'Istituto e da Etres possa venire metto fuori a disposizione della gente del post e della gente che vengono fuori da casa. Vi ricordo che per avere informazioni si potrebbe usare al Comune Generale per telefono o usare sulla piatta internet. Se volete vedere che il programma e gli E3 della programmazione laddina andando ad ANEF potete agire in questo su YouTube canale programmazione laddina.tml Deve il paio di una scuota su alla settimana che viene.